Ideologia dominante Un'espressione che veniva molto usata fino a qualche tempo fa, in ambito politico, nelle analisi sociali, è scomparsa. C'è qualcuno addirittura che dice che sono scomparse pure le ideologie, che non esistono più le ideologie. E no, e no, altro che le ideologie esistono. Esiste anche l'ideologia dominante. Intanto chiariamo cosa possiamo intendere con questa espressione. Certo, non viene più utilizzata, però di fatto designa qualche cosa che esiste. Che cos'è questo qualche cosa che è ancora presente? È un modo di pensare molto diffuso in un determinato periodo, in una determinata società, su un determinato argomento. Ma più che un modo di pensare, è un modo che la maggioranza degli individui pensa, è un contenuto che pensa, anche quando non pensa. C'è qualcosa di assolutamente immediato. È qualcosa che uno si ritrova dentro di sé, anche se poi non ci fa caso. Ecco, se affrontiamo il tema del rapporto che la maggioranza degli individui con un minimo di razziocinio ha con le tecnologie digitali, bene, almeno per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda questo periodo, ci troviamo di fronte al tema, al problema di una ideologia dominante. Quali sono i contenuti di questa ideologia dominante? E' presto detto un atteggiamento critico, negativo, nei confronti della tecnologia digitale. che è vista come motore di allontanamento, come elemento di distrazione, di allontanamento da che cosa? Dalla realtà. Qui c'è una divisione netta, in questo modo di pensare, tra la realtà, che è qualcosa che si tocca, e la non realtà, che è ciò che viene veicolato dal digitale. Sarà mai vero tutto questo? E' giusta questa posizione? Beh, c'è da dire che non è qualche cosa di assolutamente nuovo. Se andiamo dietro nella storia, vediamo che la nuova tecnologia ha sempre creato reazioni, reazioni critiche, da parte della società entro la quale essa entrava. La quale società, però, non è mai stata avulsa, non è mai stata senza, non è mai stata deprivata di tecnologia. Se è società, ha dentro di sé. Se è uomo, ha dentro di sé. Se è umanità, ha dentro di sé la tecnologia. Perché è proprio dell'uomo avere dentro di sé, essere uomo in quanto produce, riproduce, trasforma tecnologia. Ecco allora che considerare questa nuova tecnologia come non umana richiama antichi discorsi che sono stati fatti in tempi diversi, prima nei confronti della scrittura, poi addirittura anche nei confronti della stampa. Per non dire poi tutto quello che siamo stati capaci di dire contro la televisione e in certi settori addirittura, in altri tempi ovviamente, contro la penna o contro la lavagna. E allora? E allora ecco, occorre un altro atteggiamento. Occorre avere il coraggio di rompere con questa ideologia dominante. Ma per rompere con questa ideologia dominante è necessario pensare le cose. Cioè pensare dentro il digitale. Vuol dire che il primo passo che uno deve fare è quello di interiorizzarlo, il digitale. Quello di considerarlo una condizione normale della nostra vita oggi e poi lì dentro costruirsi criteri, strumenti e concetti per pensare. Solo in questo modo l'ideologia dominante smetterà di essere dominante.